Almeno due tentate truffe in pochissimi giorni. Il primo utente Etra ha ricevuto una chiamata. Il finto operatore gli ha richiesto il pagamento di fatture con relativa controprova di pagamento, qualora fosse già avvenuto, ad un indirizzo mail che assolutamente non corrisponde alla mail di Etra. In un altro caso la voce al telefono aveva esordito con informazioni su Etra, ma la chiamata è stata presto interrotta. Etra esorta i propri clienti ad effettuare tutte le verifiche del caso, rivolgendosi al minimo sospetto al numero verde. Ricorda che gli operatori, sempre dotati di tesserino di riconoscimento, non chiedono mai di accedere all'interno delle case, eccetto i letturisti nel caso in cui il contatore si trovi all'interno dell'abitazione. Quindi sempre massima prudenza.